Siamo in diretta? Sì, mi dicono sì dalla regia. Buongiorno, oggi volevo trattare un argomento che mi è arrivato alla mia conoscenza attraverso persone vicine e non vicine. Comunque sia il discorso come dal titolo è questo, carta d'identità e donazione organi. Diverse persone si sono recate al comune di residenza per rinnovare la carta d'identità. Adesso nella gran parte dei casi, penso ormai in tutti i comuni italiani, nel momento in cui vai a rinnovarla non danno più il cartaceo ma la carta d'identità, quella elettronica, plastificata che credo abbia anche un chip tipo la tessera sanitaria. In questa carta d'identità devi compilare qualche modulo, solita prassi. Solo che ultimamente in alcuni comuni ti chiedono se dai il consenso alla donazione degli organi, poiché questa carta viene elaborata in un centro credo a Roma, nella capitale d'Italia, e nel momento in cui poi elaborano tutti i dati per creare questo documento plastificato, devono inserire se tu dai o meno il consenso alla donazione degli organi nel caso in cui si verifica poi la morte o comunque un incidente o qualcosa del genere. Però molte persone hanno lamentato il fatto che questa domanda sulla donazione degli organi non è stata fatta in modo esplicito. Ad esempio gira un audio che mi è arrivato anche tramite Whatsapp dove una donna era andata al comune per rinnovare la carta d'identità della figlia, credo minorenne, e non è stata posta la domanda se la madre consentisse all'espianto e alla donazione degli organi da parte della figlia. Loro avevano dato per scontato che questa prassi avvenisse quindi col tacito consenso. Quindi se già la carta d'identità è un trust, cioè una negoziazione che merita comunque la trattazione di questo argomento in una separata sede, perché è molto vasto l'argomento. Poi a questo aggiungiamo anche la problematica di questo tacito consenso nella donazione degli organi, ovvero della domanda non fatta da parte degli impiegati dell'ufficio anagrafe sul consenso o meno degli organi, allora la cosa diventa un po' allarmante, perché a mio parere la donazione degli organi è un fatto assolutamente non naturale, è principalmente un qualcosa che riguarda il business degli esseri umani fatti a pezzi e vi posso parlare di un'esperienza personale. Nel 2011, nella fine di febbraio, è venuto a mancare mio papà, era ancora attaccato alle macchine, ad un certo punto i medici hanno chiamato i familiari, me e mia sorella, ci hanno chiesto che papà era ancora nelle condizioni, a parte il cuore perché aveva superato l'età, di poter donare praticamente quasi tutto, dal fegato alle corne ai reni, perché era tutto perfettamente funzionante. Al che io gli dissi, comprendo le vostre ragioni in merito, però c'è anche da dire che mio papà era fumatore praticamente da sempre, sin da ragazzino, dalla prima fase adolescenziale ha sempre fumato, disgraziatamente. E quindi noi stiamo parlando di un uomo che ha immesso nel sangue tutta una serie di tossine per una vita e non vedo per quale motivo o come o per quale motivo i suoi organi possono essere donati magari a persone che non hanno mai fumato, sicuramente, e che poi si ritrovano ad avere un organo che comunque ha accumulato delle tossine, delle sostanze di scarto, sappiamo benissimo i danni provocati dal fumo di sigarette. Insomma, di fronte al mio rifiuto sul possibile spianto degli organi, questa equip di medici ed infermieri specializzati mi hanno guardato, devo dire, molto male. Se avessi avuto una macchina fotografica e li avrei immortalati in quell'istante, potevate osservare proprio il loro dissenso, che ovviamente non poteva essere verbale, ma era più che altro fisiognomico, ecco, dai volti si percepiva, ma anche dall'energia. Naturalmente io ero consapevole del fatto che in quel momento stavo bloccando un business. Sappiamo benissimo che oggi come oggi gli interventi chirurgici come spianto degli organi e i parti che vengono sempre più spinti dagli addetti ai lavori verso i parti cesarei, che sono, ripeto, veri e propri interventi chirurgici, fatti proprio per incassare di più, per avere più rimborsi. Quindi più interventi chirurgici ci sono, più circolano le cose, più c'è business. Alla fine è tutta una questione di business, come nel caso dei vaccini, della Glaxo, che grazie all'Italia, questa schifezza di multinazionale, ha totalizzato dei potenziali incassi a medio e lungo termine che sono spaventosi, si parla di miliardi di euro di questa multinazionale che non ha alcun obiettivo che riguarda la salute, bensì il profitto solo, unico ed esclusivo. Tornando al discorso carte d'identità e donazione degli organi, quindi state molto attenti. Quando vi recate all'ufficio naigrafe, se non ve lo chiedono, chiedetelo voi, perché, ripeto, dare l'autorizzazione all'espianto degli organi, quando sappiamo benissimo, almeno coloro che vanno oltre la visione e l'ascolto dei Tg classici dal canale 1 al canale 6, dei Tg nazionali, ma anche quelli regionali e locali che ci sono sparsi lungo lo stivale, sanno benissimo e comprendono che si tratta di un qualcosa che va contro la natura umana. Tant'è vero che una persona che ha avuto un organo ricevuto da un'altra persona deve prendere a vita gli immunosoppressori. Che cosa sono? Sono dei farmaci che azzerano le funzionalità del sistema immunitario e azzerandole rendono la persona adatta ad accogliere l'organo cosiddetto compatibile, cosa che per quanto mi riguarda è sbagliata la definizione di organo compatibile, poiché nessun essere umano ha un organo compatibile a un altro. Tant'è vero, ripeto, che la natura del corpo umano respinge con il rigetto l'organo compatibile, però poi subentrano la vendita e la somministrazione dei farmaci antirigetto che, ripeto, azzerano le funzionalità del sistema immunitario e allora rendono, tra virgolette, l'organo compatibile all'organismo, però rendono il soggetto anche estremamente sensibile ad un semplice raffreddore. Ho conosciuto persone che hanno avuto due trapianti di fegato, alla fine sono morti lo stesso, hanno vissuto gli ultimi anni della vita rimbalzati tra un ospedale e un altro, sottoposti ad interventi chirurgici pesantissimi che durano 6, 7, 8 ore, come nel caso del trapianto di fegato di una persona facente parte della famiglia e questa persona alla fine è morta lo stesso, imbalia a sofferenze incredibili, prendeva i farmaci proprio così, a decine più volte al giorno. Quindi di che cosa stiamo a parlare? Stiamo parlando solamente di business e la natura umana non è business. Regatavi all'ufficio Anagrafe, rinnovate pure questo documento perché tanto ormai abbiamo ceduto tutti la proprietà del nostro essere alla Repubblica Italiana S.P.A., però quantomeno facciamo in modo di non farci trattare come pezzi di ricambio. Grazie per l'ascolto, buona giornata e buona consapevolezza. Puoi fermare la registrazione.